Questa è vita! Ma che bello! Perché questa è una festa! E ti portano le mani così! Questo è il senso, dobbiamo stare insieme! Giampiero in grazia! Le storie di chi resiste e continua a prendersi cura degli altri. Lì c'è una novità, lì c'è una scintilla. Un grande saluto ai ragazzi di PC4U! Arianna Ciampoli e Michele Laginestra conducono Questa è vita! Mercoledì alle 21.40 su TV 2000. Mercoledì alle 21.40 su TV.